L'uomo più potente di Francia, probabile futuro presidente, si trova a dover affrontare una gravissima situazione, un attacco terroristico informatico che rischia di mettere in ginocchio il paese, un attacco al suo governo, a lui stesso e per affrontare questa drammatica situazione ha bisogno dell'aiuto del suo consigliere più fidato. Uomini potenti che però hanno anche i problemi quotidiani che abbiamo tutti noi, relazioni sentimentali complicate, problemi familiari, fragilità personali. Questo è Annientare, il nuovo romanzo appena uscito per la nave di Teseo di Michel Houellebecq, scrittore francese molto popolare, molto controverso, per alcuni anche profetico, basti ricordare a sottomissione il romanzo in cui ipotizzava l'ascesa al potere dei musulmani uscito il giorno dell'attacco a Charlie Hebdo. Michel Houellebecq è completamente immerso nel suo tempo, nel nostro tempo, in grado meglio di tanti altri di captare, di essere in sintonia con gli umori della gente, con i cambiamenti della società. Più che un profeta, io lo definirei un grande osservatore, attento osservatore della società. In ogni caso è uno scrittore che vale sempre la pena leggere.